Foggia è uno dei luoghi importanti per la Film Commission, abbiamo girato tante cose. Il cineporto di Foggia è importante per noi e sviluppa un'attività molto importante per il territorio. Il Foggiano è una zona che piace a chi gira i film in Foggia. Stiamo aspettando, stanno facendo primi sopralluoghi una produzione importante italiana che dovremmo girare qui in breve. Abbiamo un progetto con l'ITS a cui teniamo molto sulla formazione. Con l'ITS stiamo sviluppando un'idea di formazione professionale su figure legate alle nuove tecnologie, all'animazione, alla computer grafica, agli effetti speciali nel cinema. Formare ragazzi su questo segmento della filiera cinematografica, che manca già in Italia e manca in Puglia, è una cosa che ci interessa molto. Farlo a Foggio è molto importante. Su Gargano nelle location o anche qualcosa in più del resto della provincia? In genere, addirittura c'è stata una storia molto interessante. L'ho girato l'anno scorso un film, una produzione ciecoslovacca, o meglio, cieca soltanto, che ha scoperto la foresta umbra e l'ha fatta diventare foresta nera. Allora, nella finzione, la foresta umbra era una parte di Germania in un percorso di incrociati. Allora, questo vuol dire che è una provincia che si presta anche a essere reinterpretata, a fare da sfondo a storie diverse, che è una delle vocazioni più interessanti per i luoghi. Presidente, ci ha incuriosito abbastanza, ma qualcosa in particolare ce la vuol dire? Ancora no, perché finché il nostro bando sarà presentato fra qualche giorno, sarà un bando di 3 milioni e 400 mila euro sulle produzioni e a seguito di quel bando stiamo lavorando ad alcune grosse produzioni, ma ancora non voglio e non posso parlare. Merito di Apolia Film Commission, se molti vengono a girare qui, anche la Puglia si vende bene, voi siete contenti di strappare molte invidie anche al nord? A noi piace fare bene il nostro mestiere, siamo contornati da cugini di altre regioni che lo fanno con la stessa passione con cui lo facciamo noi. La Puglia è diventata nel corso degli anni un luogo attrattivo perché oltre, banalmente, a dare delle sovvenzioni, a dare dei contributi a chi viene a girare qui, si è dimostrata una regione in cui si gira bene. È piacevole, c'è un buon clima, c'è bella gente, ci sono fior di professionisti che girano adesso in tutta Italia, che provengono dalla Puglia, e quindi è un di più che non so quante altre regioni possono dare.